il led ah lo sono riuscito a passare io no eh no Shiro nemmeno io Shiro Shiro è la base Shiro l'ha fatti svegliare Shiro però l'ha fatti svegliare in questo modo che tre si svegliano e uno e mezzo addormentato sonnacchioso alla fine della del combat tracker ne spatto le balle e prendo il Winchester oh meno male che qua non c'è il il discorso di avete pronti i fucili oppure no la regola ci sarebbe però vabbè nuovo Pinterino ah vabbè la regola ci sarebbe si l'estrazione delle armi certo ah no 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 però fin qui ci siamo no non è chiaro si si no siccome veniamo da una lo sai da Cthulhu eh pure Cthulhu eh ma non Cthulhu è pure peggio eh mamma mia Cthulhu per questo allora primo Mexican soldier niente diciamo che la distanza c'è perché questi hanno un bel Winchester ve lo dico subito almeno riconoscendo il Winchester però non a distanza esatto il Winchester è famoso 73 quindi te lo ricordi allora il primo attacco a Butch ah che bello quando vedo questa la freccia e lo prende olè e è già uno shakerato gli ha fatto pure il danno ha fatto una ferita gli ha fatto pure il danno gli ha fatto una ferita e parlando di me eh sì eh sì quindi la sfiga mi secondo americano eh americano americano messicano esatto attacca Jack Brown e lo prende lo prende in pieno e gli fa pure la ferita eh ferita e vai gli fa pure la ferita cioè ragazzi mi sa che già già all'inizio cioè siete all'entrata della miniera io gli volevo fare un bel dungeon dico vabbè mi sa che non gli ha fanno allora questo tanto li curo io al volo dopo dai sono buono attacca a jonathan e lo prende e lo prende e lo volè ah non gli ha fatto niente eh non mi ha fatto niente però se lo... prende niente di tipo super mi prende il proiettivo e hai tornato indietro non l'ho scosso anzi bucce bucce io gli sparo vai bucce però io sono è shaken è shaken ah sei shakerati ti devi deshakerare ok direi che ce l'ho fatta vabbè rimosso poi e poi gli sparo ah è semplice vabbè sparo vabbè eh mi dispiace che ero bucce stai iniziando a bestemmiare stai iniziando a bestemmiare no 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 ma io non sono shakerato non ha soprato la mia difesa giusto? e poi io prendo il mio bel winchester e inizio a farlo cantare e sparo contro questo qui oh rai poi rai si ha fatto quindi ora devo tirare i danni si eh io non mi ricordo come si tirano i danni raga i dati vicino all'arma ah eccoli si e beh e beh uno è morto è morto il d6 per il rise figo figo e uno è morto ragazzi è incapacitato vai boom jack brown per togliere lo shaker come già che si faceva? il tiro in spirito no deve tirare contro le contro le contro lo shaker ah ok allora un'altra cosa dai l'hai fatta ok sei uscito puoi fare l'alluazione danno cioè danno colpisci colpisci e danno spari se ti muovi muovi allora per targettare potevo anche trascinare semplicemente l'arma sul esatto sull'icona sul token sul token anche lo facciamo così dai aia e noi siamo aia peccato 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 mexican soldier che cosa fa? allora questo punto si vendica no su spike valentine dai più vicino spari che ancora non ha sofferto ma non stava dormendo è ammissato infatti era mezzo addormentato è ammissato ci sta ci sta perfetto che è lo spike ok allora tocca a me vendicarvi ah l'unica cosa io ho due pistole posso sparare con entrambe? puoi sparare con entrambe hai due malus l'ultimo malus è per la mano sinistra e il secondo malus per il multi attacco esatto ah ok vabbè quello per la mano sinistra in teoria non aspetta quindi comunque c'hai meno 4 attenzione come lo metto? allora io non tanto faccio il tiro no non ci credo fallito male non hai targettato? non hai targettato? no voi non devi fare il shooting come tiro devi trascinare l'icona della della tua pistola sul sul messicano allora ti ho messo allora hai presente la stella che c'è a sinistra? ehm dove? in che skymate? abbi la tua scheda in basso a sinistra in basso a sinistra nelle armi? allora in basso a sinistra accanto ai dati in basso a sinistra accanto ai dati ok allora tenendo premuto control tu puoi appunto modificare il modificatore ci metti meno 4 beh no scusa non c'è meno 4 c'è meno 2 su tutti e due i tiri e meno 4 sulla mano secondaria ah giusto esatto esatto allora c'hai meno 2 sul primo e meno 4 sul secondo esatto meno 2 sul primo e meno 4 sul secondo sì 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 ok capito? il meno 2 a tutte e due è dato perché fai doppio attacco quindi la modificazione c'è un ulteriore meno 2 sulla mano sinistra perché non è la tua mano principale è la mano secondaria ma... cioè io ho il talento ambito allora non ce l'hai perfetto allora non c'è quest'altro c'è solo meno 2 per dar tutti e due i tiri se volete mettere a meno 2 i tiri un attimo però allora premo control sulla stella e poi cosa devo fare? scrivere meno 2? monitoria con la rotellina dovrebbe farlo se sposti la rotellina sì sposto la rotellina 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 e tu s'impostolo sul meno 2 L'ho fatto ma non va su meno 2 Come non va? Io ci vado su meno 2 Non è possibile Sono sulla stella Va bene non importa, quasi tiro con una sola pistola No, 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 scusa che c'entra? Non è possibile, lo possiamo fare tutti No, sono sulla stella La stella è in basso Devi tenere premuto contro l'eser E girare la rotella del mouse La rotella del mouse Sto tenendo il cursore sulla stella Ci riesci? No, niente da fare No, non è possibile Devi farlo verso l'interno o verso l'esterno La stella stiamo parlando, la stella dello sceriffo in basso a sinistra Sì, quella grigia con su scritto 0 Esatto, quel modificatore va cambiato È solo che per controgire la rotellina con control non succede nulla Devi tenere premuto contro l'esterno E poi girare la rotellina Sì, lo so Ok, allora fa una cosa, guarda Sì, lo so Sì, lo so Sì, lo so Sì, lo so Scrivilo Scrivilo? Scrivilo? Scrivilo sulla stella Scrivilo sulla stella E scrivi meno 2 ah ottimo ok l'ho preso si ha fatto il coso incremento orco 2 hai fatto esplodere mamma mia questo cacciatore di taglie si fa bel danno ma l'ho mandato con l'altra vabbè intanto uno è morto intanto c'è il nuovo round ovviamente si mischiano di nuovo le carte e il primo c'è pure il gioco c'è pure il gioco c'è pure il gioco e allora questo ragazzi peccato che non c'ha non c'ha armi da mischia perché si può andare ovunque è vero che col Joker può andare ovunque no come no col Joker hai più due danni mi pare però fai un movimento lo stesso si c'ha il damage bonus e basta l'unica cosa in più che puoi fare col Joker è decidere di metterti in pausa ti puoi aspettare e poi di intervenire bloccando il turno di un'altra persona anche di un tuo alleato scusa ma uno non è morto fammi vedere che c'è il dubbio si uno è morto uno si eh non dovrebbero essere due due morti si sono due morti uno l'ho ucciso io e l'altro Spike Bunant ne l'ha fatto saltare per aria ah ok allora l'ho ucciso tocca a me aspetta aspetta per capire un attimo come il discorso come l'hanno tradotto aspetta eh allora quando un giocatore prende un Joker il Jolly aggiungi più due a tutte le prove c'è scritto his character can go whenever he wants in the round eh nel round nel round il Joker decide lui quando intervenire ok perfetto ok può essere sia il primo che decide di essere il terzo lo decide lui tu lui lui dici vabbè adesso aspetto vuoi andare prima gli altri ok perfetto ma ecco dato che tu diciamo su questa cosa sei più esperto di me che vuol dire può andare dove vuole nel round anche interrompendo l'azione di un altro personaggio che tu vabbè questa cosa la possono fare tutti quanti praticamente quando è il tuo quando è il tuo sì ma perché qui qui sta diciamo sottolineando sta cosa ecco questo perché c'è perché il Jolly non lo so perché il Jolly sorpresa perché secondo me gli stava dando un'abilità in più invece tu mi stai dicendo che non è così no sta cosa della pausa la possono fare tutti quanti forse l'unica cosa in più è che il Jolly essendo il primo che agisce non necessariamente deve essere il primo ma è in italiano che cosa c'è scritto nel manuale sul la pausa praticamente dice che un eroe può scegliere di aspettare e vedere cosa succede ok 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 io ti sto dicendo a pagina 72 dove c'è il Jokers aspetta il 72 la prima pagina del combattimento sì chiaramente qua dice quattro righe sono quattro righe bravissimo dice quando un giocatore estrae un Jolly il suo personaggio può agire quando vuole nel corso del round persino interrompendo l'azione di un altro personaggio aggiunge inoltre più due a tutte le prove sui tratti di questo round e più due ai totali dei danni perfetto allora in italiano l'hanno spiegato a me io sto discorso ok perfetto il Jokers diciamo che può intervenire quando gli operano loro invece gli altri eroi che vanno in pausa vanno in pausa solo al loro turno cioè si 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 ovviamente il Jokers si si qua purtroppo traducendo in inglese se non sai l'inglese alla perfezione rischi di di tradurre male si infatti infatti avevo tradotto male niente niente diciamo che è comodo avere il manuale in italiano praticamente accanto purtroppo va bene allora perfetto allora vediamo un pochettino che cosa fa niente non fa niente perché è morto l'altro cabbaccio un'altra winchesterata caglie tanto la fallisco lo stesso ah ci sta vedi no no abbaccio che sfiga abbaccio spike spike qualcuno benedica abbaccio beh uno spazio di nuovo ah ragazzi ah ragazzi ora il mexican si incazza eh ora il mexican allora aspetta dovevo ancora sparare con la seconda e vai vai danno vabbè un massacro hai fatto praticamente e quindi non si arrabbi a parte ma non hai ammazzato quello che è ora c'è il mexican soldi è l'ultimo che si scatena e attacca e attacca Jonathan Preacher boom attacca Jonathan Preacher lo prende capito eh cazzo due ferite si eh e sei shaken pure shaken e due ferite e sei shaken e due ferite vabbè Jack Brown missato Jonathan mi sa che è missa pure con meno due si è missa si ah intanto rimane in shakerato si si ricomincia Butch oh Butch c'è il jolly eh no c'è il jolly c'è il jolly si così lo manco due volte va di colte magari vabbè no oh realmente eh che cazzo l'hai ammazzato dai 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 che c'è il jolly oh leh eh vabbè eh sì mi ha fatto una ferita e basta allora ragionate un attino ci avete uno meno uno meno due meno uno io posso curare qualcuno che ha bisogno che ha bisogno ecco ma altrimenti è finito uff sì tipo crollo a terra chi è che ha bisogno di più il jolly io c'ho due due ferite due ferite c'era una allora vado su lui